Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza stampa di presentazione del film I.O. di Yerzi Skolimowski. Abbiamo il piacere di accogliere l'attore Lorenzo Zurgiolo, la produttrice Aileen Tasca per Alien Film e Andrea Romeo per la distribuzione I Wonder. Questo è un film è selezionato fuori concorsa, è un'anteprima italiana e ha avuto la sua prima mondiale a Cannes dove ha ricevuto il premio della giuria, poi ci sono stati diversi altri festival e se non ho capito male anche è in selezione ufficiale per il film polacco per la presentazione agli Oscar, giusto? Mi confermate? È una coproduzione polacco-italiana, quindi Skopia Film e Alien Film con il contributo del Ministero della Cultura della Regione Lazio. Io faccio delle brevissime domande e poi vi passo la parola al pubblico e alla stampa. Io, Lorenzo, mi sembra che questo sia per te da un esordio da bambino con pubblicità e serie sei arrivato ad un grossissimo traguardo e credo anche a una grossissima sfida, che com'è stato lavorare in questo contesto? Guarda, innanzitutto buongiorno a tutti. Pronto? Eccoci. Buongiorno a tutti, grazie mille per essere qui. Per me sì, fare questo film è stato un grandissimo onore e forse l'esperienza più bella che ho fatto in assoluto. Al di là di tutti i premi che sta ricevendo, per me è stato veramente bello partecipare a questo film, sia per il fatto di aver lavorato con un regista così importante e così bravo, con un maestro come Yechers Kolimoski e soprattutto per aver lavorato con Isabelle Huppert. Sì, è un'esperienza che mi riporterò dietro per tutta la vita e oltre insomma al fatto che mi sono divertito tanto ed emozionato tantissimo, è un film a cui tengo particolarmente anche per tutti i messaggi che porta. Anche per la produzione immagino che sia stato Aileen una buona sfida riuscire ad accogliere questo regista così particolare e a lanciarlo in un contesto anche attraverso una distribuzione che Andrea ci confermi è un art house, è una novità che ci presenterai anche, no? Volevo avere un po' tutte e due le vostre opinioni. Sì, io sono un rapporto con Yechers Kolimoski da tanti anni, siamo molto amici e abbiamo fatto due altri film insieme, compreso 11 minuti. Questo è stato una grandissima sfida perché lui stava cercando di, narrare il cinema in un modo diverso perché erano stanchi di questo discorso formuleico e anche perché se noi vogliamo essere compatibili, se vogliamo dare qualche cosa extra, la nostra competizione sono i streaming serie, quindi abbiamo spinto al massimo. Io felicissima perché adoro Skolimoski, come produttrice è stata una cosa abbastanza, diciamo Rocky Road, no? Sì, però con grandissima soddisfazione e anche il messaggio che abbiamo dato a questo momento che animali contano è l'amore che tutti noi abbiamo per gli animali. Per me è stata una scoperta cannense, permettimi due parole su Torino, innanzitutto questa sciarpa fa capire che sono arrivato a Torino e voi sapete perché. E poi Torino è dove io come cinefile ho scoperto Skolimoski, grazie a una retrospettiva del festival di molti anni fa, sembra ieri ma è passato un po'. L'urlo è stato il film che mi ha introdotto alla filmografia del maestro e quest'anno quando ho scoperto che c'era un suo film in concorso a Cannes non ho potuto fare a meno di andarlo a vedere in sala l'auditorium Lumière. Il film mi ha colpito moltissimo, me ne sono innamorato e devo dire che con Jeremy Thomas che assieme ad Aileen è tra i grintosi produttori di questo film abbiamo capito subito che poteva esserci uno spazio nel mercato italiano. Sono molto felice che Aileen e Jeremy abbiano voluto affidarci questo film. Nel frattempo noi abbiamo come Wonder Pictures capito che c'era bisogno di un'operazione speciale sul cinema di sé e sul cinema di qualità in questo paese e quindi abbiamo deciso di spezzare i destini del nostro listino creando un nuovo label che si chiama Art House e che porta in sala ogni mese un film che probabilmente nel listino di Wonder Pictures rischierebbe di vederci distratti per l'uscita di grossi titoli come Everything Everywhere at Once o The Whale e quindi chi ha bisogno di una cura di un lavoro speciale assieme ad Alessandro Tiberio che viene da Valmin è nata questa avventura di Art House e ci ha portati velocemente a portare in sala a Boiling Point che è in sala in questo momento. Questa settimana esce il film di Andrea Pallauro Monica che non poteva non trovare una grande attenzione in I Wonder e che trova ancor più attenzione nel listino di Art House e poi con un gesto tra il dadaista e lo scolimoschiano abbiamo deciso che io fosse il film di Natale di Art House e quindi in un Natale che propone qualità molto allargate decidiamo per una qualità garantita e per una qualità probabilmente de sé anzi orgogliosamente Art House e oggi c'è una bellissima uscita sul film la stampa è pazzesca negli Stati Uniti sul film il film scommetterei su una shortlist il giorno prima una shortlist Oscar il 21 dicembre il giorno prima dell'uscita in sala italiana è ovviamente una forte cerco la parola giusta proposta stavo per dire provocazione ma non voglio non voglio viverla così sì però è anche una proposta a un mercato che secondo me deve ripensare il suo rapporto col pubblico e quindi censuro provocazione dico che è una forte proposta al mercato e siamo sicuri che sia il tempo sia maturo perché perché il Natale 2022 veda io protagonista nelle sale italiane che lo vorranno grazie Andrea grazie Aileen grazie della provocazione ce n'è bisogno volevo tornare un attimo a Lorenzo prima di passare la parola al pubblico Lorenzo questo film è un percorso narrativo che ne cela uno esistenziale come sulla base di quali criteri pensi che il regista abbia voluto che fossi tu presente nel film ma forse dovresti chiedere a lui guarda io sapevo del film e conoscevo Jersey per avevo visto io Essential Killing suo che mi era piaciuto molto e mi ricordavo insomma che avessi vinto il leone d'oro alla carriera e nulla io appena ho scoperto del film ho fatto di tutto per fare questo provino mi sono preparato meglio che potevo perché sapevo anche di Isabella Huppert e ci siamo subito trovati devo dire fin dal primo provino c'è stato un grandissimo feeling fin dal primo provino che lui non era presente in Italia però in diretta via streaming mi dava già le prime indicazioni e abbiamo lavorato molto sul personaggio e su tutta la backstory di quel personaggio e devo dire che poi questo feeling l'ho ritrovato sul set e insomma è stato bellissimo vi siete trovati bene a lavorare insieme durante tutta la lavorazione? sì assolutamente ci sono domande? io vorrei aggiungere qualche cosa Jersey ha selezionato Lorenzo perché gli è particolarmente piaciuto sapendo che era molto giovane e quindi il testo richiedeva per un personaggio di 40 anni ma è stato talmente preso dal test che ha fatto Lorenzo che lui ha battagliato anche con Isabella per averlo ma è per questo che questo film non rispecchia l'età di 85 anni che ha Jersey ma è un film giovane perché lui veramente sposa è stato fatto da un team creativo e lui infatti a New York ha detto che sono stati tutto un gruppo di persone che hanno portato questo film e Lorenzo è stato meraviglioso, molto coraggioso perché un giovane attore che deve recitare con Isabella Luper non è esattamente la cosa più facile quindi siamo rimasti molto colpiti dalla sua grandissima maturità e capacità di trattare qualsiasi cosa che gli arrivava Grazie mille, grazie Buongiorno, io non ho proprio una domanda però volevo rimarcare quello che avete detto sul fatto dell'animalismo è bellissimo che in questo film ci sia un po' un sentimento anche tra le altre cose di vendetta animalista per esempio l'uomo che va a raccogliere le pellicce con l'elettrocuzione degli animali viene da I.O. riceve un calcio in faccia e muore quindi proprio ci sono questi spunti di vendetta animalista e poi volevo dire per quanto riguarda il fatto che è un film giovane come ha detto lei la colonna sonora diciamo di musica elettronica contemporanea contribuisce tantissimo a questo feeling ed è molto molto bella e arricchisce tantissimo il film quindi diciamo soltanto volevo esprimere il mio apprezzamento e casomai volevo chiedere in che modo lo ricolleghiamo a come hanno fatto a Cannes a Oasar Baltasar di Robert Bresson mi sembra un po' forzata questa cosa diciamo si protagonista è l'asino però c'è un percorso di asino che cambia padrone però mi sembra che le tematiche siano completamente differenti si giusto le tematiche sono completamente differenti Oasar Baltasar è stato l'unico film che lui ha detto che l'ha fatto avere un'emozione fortissima e quindi ha preso quell'emozione e ha dato spunto a questo film però ci ha messo il suo quindi ovviamente non è che c'è un collegamento stretto però è stata l'ispirazione e l'idea di fare un film che evoca emozioni questa è la cosa che anche per Gierge forse è un po' un cambiamento perché lui tende ad essere più intellettuale ma proprio l'idea di tirare fuori una forte emozione dalle persone Sì, devo dire che l'aspetto estetico e cinematografico del film ne fa un cult secondo me anche per un pubblico giovane lo dico da distributore di film come Titan o Atlantide per me questo film è in quella direzione anche di ricerca estetica è coerente con i film che stiamo portando in sala come Everything Everywhere All At Once o La timidezza delle chiome è un film con una regia veramente sorprendente e piacevolissima però al contempo la cosa che non mi ha dato nessuna chance di sottrarmi alla possibilità di pubblicare in Italia questo film è che ha cambiato il mio modo di guardare gli animali forse ho sempre avuto una sensibilità rispetto a questo ma visto che mi piace il cinema e il cinema spesso mi ha cambiato e mi ha reso la persona che sono questo film secondo me cambia lo sguardo degli spettatori sulla personalità e sul punto di vista degli animali e credo che sia anche questa la forza con cui sta colpendo gli EFA che hanno appena decretato un premio per il film e una nomination per il regista e con cui colpisce il mercato americano e l'Academy Award perché il tema della disumanità degli allevamenti intensivi e della trasformazione in oggetti di esseri viventi è un tema ma come dire, chi ci arriverà se ci arriverà tra qualche centinaio di anni ci guarderà come dei mostri perché è evidente quanto per noi è assolutamente inaccettabile l'idea di non riconoscere all'intera umanità dei diritti tanto è assolutamente mostruoso la trasformazione in un bene e in un oggetto di esseri viventi senzienti che ci assomigliano molto più di quanto non facciano le piante o i funghi quindi tutto sommato c'è un'empatia per questo parliamo di empatia nella campagna del film e non sento la stessa responsabilità nel mangiare un radicchio, un porcino o un essere vivente come può essere una mucca o un maiale e credo che sia un tema intellettualmente interessante oggi perché ci fa un po' da specchio, inverte un punto di vista e ci fa un po' guardare noi stessi su come un'umanità che è un po' alla deriva attraversa questo film mi sembra sì, giustamente poi alla fine se pensiamo siamo tutti quel piccolo asino perché è io, è io, più o meno c'è una coincidenza però in qualche modo rispecchia anche chi siamo noi e quindi ci sensibilizza gli animali e ci riporta che facciamo tutti parti di questa biosfera è inutile che facciamo finta che noi siamo separati, non lo siamo se ci sono altre domande abbiamo ancora poco tempo Lorenzo, io sono curioso volevo sapere, come ti prepari? nel senso, c'è più studio, c'è più visione di film, c'è più lettura che cosa, come funziona la fabbricazione di un attore? guarda, in questo caso c'è stato tanto studio ho visto ovviamente molta della cinematografia di Yeager e poi la cosa che mi ha aiutato tanto su questo personaggio ed è una cosa che mi ha colpito molto di Jersey è che abbiamo lavorato molto sulla backstory del personaggio cioè su tutte le cose che nel film non si vedono e che si percepiscono leggermente o in alcuni casi non si percepiscono nemmeno però lui voleva che io avessi in testa bene tutto il passato del mio personaggio e tutto il rapporto con il padre che non si vede e con questa appunto matrigna e questa cosa mi ha aiutato tanto, devo dire e la sei pensata, cioè ti dovevi pensare a come costruirti questo personaggio e a come rappresentarlo sentendolo in un'identificazione che non era sempre banale no, non era semplice anche perché insomma è un prete poi abbiamo visto un prete particolare, un po' ribelle diciamo e però sì insomma dovevo conoscerlo appieno per poi provare a interpretarlo quindi questa cosa è stata super utile l'abbiamo costruita insieme perché Yeager aveva una sua idea ben precisa però era molto aperto a parlarne, a discutere Senti, altri progetti già ci sono per te? Sei pronto per altre avventure? Sì, adesso insomma ho appena finito la serie di Francesca Archibuggi che uscirà presto sulla storia di Elsa Morante e poi ho iniziato un altro progetto che non posso dire nulla purtroppo però ci tengo proprio a ringraziare Lorenzo Zurzolo per anzi per l'attenzione e la cura con cui sta seguendo questo film per aver accettato di essere a quest'anteprima italiana e perché credo sia una clamorosa opportunità per portare con la portata di uno star system che speriamo torni in Italia e che ha in lui uno delle punte di diamante della sua generazione la possibilità di portare a vedere questo film ma incuriosirsi rispetto a un grande maestro del cinema che magari non conoscono per un sacco di suoi coetanei Sì, sì, assolutamente io anche volevo ringraziare Aileen, Jeremy Thomas, Yeager la distribuzione per questa opportunità perché veramente, come ho già detto, è stata forse senza forse l'esperienza più bella e più stimolante di tutta la mia esperienza Che poi Scorrimoschi questo film lo ha pensato stando in Sicilia, giusto? Era una scrittura... ma era durante la pandemia? Ecco sì, no, no e dunque praticamente il primo dicembre del 2019 io ricevo una telefonata vieni a Varzavia e quindi praticamente noi avevamo preso in affitto insieme questa torre di Scopello per vari anni allora aveva pensato, siccome c'è un tipo di presepe vivente a Costunaci aveva pensato che si poteva cominciare questo film con quello perché questo è un film che trattava con questo asino che va da un polacco che va dalla Polonia e arriva in Sicilia quindi la Sicilia era importante perché eravamo in Sicilia e sarebbe stata la fine del viaggio e quindi è stata pensata così Bene, grazie se non ci sono altre domande possiamo ringraziare i nostri ospiti per la condivisione del loro lavoro e un grandissimo in bocca al lupo allora grazie e ringraziamo l'asino gli asini e ringraziamo l'asino siamo dimenticati che veramente sono stati gli asini che hanno portato questo film dove siamo veramente i sei asini che abbiamo avuto sei grazie